Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. Sulla Fipili per lavori tre chilometri di coda tra Ginestra Fiorentina e Lastra a Signa in direzione Firenze, possibili disagi anche sulla carreggiata opposta in direzione mare. Sulla A11 l'area di servizio di Serravalle Sud in direzione Firenze è sprovvista di benzina per un guasto all'impianto. Su raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento A1 di Firenze in Pruneta. Su raccordo Siena-Bettolle scambio di carreggiata per lavori tra Casetta-Monte Aperti e Castelnuovo-Berardenga in direzione Bettolle. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!